No, devi entrare da lì L2 più R2 Sì, sì, sì Ma va direttamente, no? Sì Perché non mi dà il segnalino? Mi sa che devo lanciarmi contro il muro Eh, ma lanciati contro il muro Non me lo dà, vedi? Ah, ok Ah, ok, prima dobbiamo trovare C'è una gratta, se non è più facile Allora, sì, devi picchiarli E allora sì Distraili? Tipo... Sì, sparo qui, così Sì, sparo lì Eh, guardate, amici Ma come è pericolo? No, non è pericolo Dai Devi picchiare a mano Prova a occultarti È pericolo È lì È lì È lì, è lì È lì, spiderman Vai in cazzo Più, è lì Vabbè, vaffanculo Oh Spiderman cosa? Ho capito, spiderman incazzato Spiderman incazzato Anch'io ho sentito spiderman incazzato Ok Ok Non è stato molto stealth Ma... No Non premere il grilletto Non lo premere il grilletto Ok Ciao amici pubblico Non c'è niente da vedere Se posso ricaricarlo? Non so se magari posso Ti prosciugare Ecco, poi tu faici messo Prende male Ok Ok Da tu, da tu, da Premi L2 per mirare Premi ripetutamente R1 Per disattivare gli oggetti rotanti Le pale Da, 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 da helm Lo state sopravvalutato, non sono d'accordo. A me piace molto andare in strada. No, anche a me piace... Un laboratorio pieno zeppo di guardia armale. Precisamente non è il solito Natale. Dovrei essere a casa a dormire. Minchia quanto vero, Miles. Ma... Ma... Ah no, perché devo salire, mi sa, sulla... Woppla! Cazzo quanto hai ragione, Miles. Sì. Mood. Da-du-da. Oppure di qua? Why not both? Duda-du-da. Oppure di là? Oh no! Duda-du-da. Allora... Direi proprio una cosa. Al centro. Al centro. Tutte le strade porteranno la Rockson. Visto? Non posso interagire. Ah, questo qui mi sa che è tipo... Ti riporta qua. Ok, dovevo andare a sinistra. Vedi che la risposta è sempre a sinistra. Lui è sempre a destra, ma non... No, 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 no. E qui? Belli spaziosi comunque questi condotti, devo dire. Poi immagini io... La Rockson si tratta bene. Immagini io che registro quella battuta, tipo... Dovrei essere a casa a dormire. Durante uno dei tanti turni di Miles. Ehm... I don't get it. No, è giusto, devi andare giù. Giù di qua. Mi aveva confuso perché ho visto le sedere di Miles e sono andata in tilt. Il rilevatore ha localizzato il telefono in profondità. Credo che era anche in certo senso. Eh sì, qui ci caliamo un po' alla Spider-Man. Uuuuh... Uuuuh... Vabbè... Eh, qui avrei preferito che si vedesse proprio la ragnatela che usciva piano piano dai polsi. Vero. Non c'è nessuno... Ok, scendo allora. Conviene superarlo. Ups. È stato un po' di vento. Si sta per sbloccare... Eccolo. No. Ups. Ma dopo quanto si ricarica? Ah, è lì, occultamento, ok. Sì, in alto a destra. Non ci sono più. Non ci sono, amico. Dove dovrei andare di qua? Eh, forse in alto. Sì, devi disattivare. Ma racchiati, sei un ragno. Hai ragione. Ah, dimentico sempre che sono Spider-Man. Dove devo andare? Eh, per me è L3. Cioè, R3, fai una scansione. Se li devi picchiare. Dico ormai che mi hanno visto dei picchiali per forza. Credo. Era Pandoro o Panettone? Pandoro! No. Va bene. Io dico sempre tanto un po' Non hai contemplato. La domanda è Pandoro o Panettone? Panettone in ogni caso. Dammi la tua pistolina. Ecco. Pi 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 pi. Mi torna indietro. Eh, occhio. Quello lì ti impedisce di usare il Venom. Usano tecnologia anti-Venom. Vabbè. Ok, non fa niente. Posso picchiarti comunque con i pugni. Non hai tecnologia anti-pugni, vero? No, anti-pugni no. Allora, bezzate i pugni. Tecnologia anti-Ragnutella. Pi 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 pi. E giro giro tondo. Questo è mio. Questo è tuo? Io picchiati. Bravo. E adesso vediamo come si fa. Ciao. Vabbè. Vabbè, ti hai solo detto Ehi, dai. Posso ridi. Oh, cazzo ridi, bro. Surprise, madafaka. Ah. Lo so. E immagino che avrai molte domande. Ma prima dobbiamo uscire da qui. Hai scelto il posto sbagliato in cui entrare. Non intendo andarmene così a mani vuote. Senti, io ho lavorato per quelli della Robson ed è gente poco raccomandabile. Se ci trovassero qui, allora aiutami. Eh. Da. Stardo come tuo padre. Perché tu invece. Ma faremo a modo mio. So come accedere ai terminali di sicurezza. Ti guiderò da lì. Sì. Vine a distanza. Mmh. Tutissime per lo start. Non farti scoprire. Sono quelle che fanno il raggio? Quando ci passano poi i regliatela? O... No, solo lì scordisce. No, solo lì scordisce. Come hai fatto? Ho già lavorato su Ciccini. Concegliati. Che fanno tu? E le meno a distanza? Sì. Ah, bellissime! Sì. Quella è sicura? Però non può fare il salamino. Pronti a sparare? Che babbi! Ma lo puoi attaccare anche sulla gente. Oddio, bellissimo. Odice rosso, uomo a terra! Pronto. Dovrebbe esserci un condotto nella stanza. Porta al laboratorio e al reattore. Com'è? Reattore del nuvo. Stando ai progetti... Oddio, non mi ricordo di farlo. Cosa? Così. Ah, per... Per cambiare l'armi. Il gadget. Avete preferito i due Spider-Man o i Batman Arca? Eh... Dov'è il nuformo che ho chiesto? Cerchiamo di produrlo, ma Mason non ha lasciato appunto. Beh, ho saputo che una capsula di nuforma è sopravvissuta al disguido del ponte. Ecco, se avessimo quella... Se l'avessi, te l'avrei data. Non credo. Certo, signor Krieger. Dico solamente che senza quella capsula non potete... Potremmo rispettare le scadenze, io... Il 24 ore. E non poche risorse sono impegnate nella ricerca della capsula. Tuttavia, adesso apprezzerei che tu tornassi in laboratorio per fare il tuo lavoro. Licenziati, bro. Non lo vedi che il tuo capo è pazzo? Ah, andiamo avanti. Sei vicino al prototipo del reattore. Togli di mezzo i soldati. È una fregatura lavorare al reattore. L'ultimo di guardia qui tossiva come un dannato. E sa quanto prenderei? Rassicurazione. Non dovevo accettare questo turno. Una montagna! Vabbè. Deve... Vabbè. E devi farla tu esplodere? Sì. Ah, ok. Non esplode automaticamente. Oh no. Era per il prodo. Ah, cazzo. No, 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 no. Era sempre sicuro. Lui è pericolo. Avete in programma di continuare Monster Camp? Sì, di fare un'altra parte a Monster Camp, assolutamente. Sì, non l'abbiamo finito. No. Io stavo dimoschiando il best boy Belladonna. Eh, mi hanno chiesto... Mi hanno detto, ah, perché non ho fatto il cosplay di Belladonna? Tu dovresti fare il cosplay di Belladonna. Eh, se no. Hai già i capelli bianchi. Dovresti solo rasarmeli un pochino i lati. Esatto. Usa il terminale per aprire. Aspetta. Ci sono altri laboratori in città. E un reattore nu form in ciascuno. Quella schifezza intossicato Rick. Vanno fermati. Sono tre. John, fai il cosplay di Sailor. Prendi il telefono. Ma perché? Perché? Il reattore è giù. Alimenta l'intera base. Il telefono è lì sotto. Devo trovare un modo per superare quella ventola. E anche quei tipi. Te l'ho già detto. Non farlo scoprire. Un po' aggressivo nei modi, tuo zio, effettivamente. Ma ti dici? Cioè. Quei dati del testardo. Ma il signore, cioè. Lì, sicuro. Non puoi fare gli testarani. Sì, io posso fare lontano. Oh. Sui cavi. Che funambolo. Non è più sicuro. Sì, sì. Adesso. Non ti inseriria. Porca vacca, tempo di andare a pranzare e arriva Prowler. Eh. Ma il noce è più che altro tempo di andare a pranzare, ma non è neanche mezzogiorno e mezza. Sì, sicuro. Perché l'altro stava guardando al mirino, quindi non se lo caga. Adesso, anche tu sarei sicuro. Pronto, ma c'è l'aria Rinaldi? Ciao, Genki. Non volevo solo sapere se stai bene. Se sei ancora... Non è il momento. Non urlare. E ho scoperto che è anche Prowler. È una lunga storia. Aspetta. Quel Prowler. Il criminale con il costume viola. Ex criminale. Non siamo alleati. È solo per questa volta. Tuo zio è Prowler. Ah. Un casazzo. Perché non sono... Che io? Perché ho solo tirato la mina, ma non l'ho tirata su un... Oh, shit. Su un oggetto in particolare. Oh, 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 oh. E' l'ora delle botte. E' l'ora di fermare il regno. Io? Eh, era Spider-Man ingaggiato. Prendi questo. Eeeeh, non è in... Minchia, si gira velocissimo. Togliel'arma, fai triangolo. Vabbè, tanto che io. Adoro lanciarli. No, aspetta. C'è ancora qualcuno. Ah, sei sempre tu. Sono sempre io. Ah, sei sempre io. Va in fretta. Sto disattivando allarvi e telecamere per impedire che ne arrivino altri. Taglia i cavi sopra la ventola. Grazie. Devo riuscire a disattivare la ventola. Devo tenerli in posizione. E va. E ora mi cade. Se hai rompendo uno sgarriolo, sono il CEO di uno Spider-Man. È data di scadenza in fronte. E' data di scadenza in fronte. È data di scadenza in fronte. Ecco qui. Ok. Il nucleo va svuotato in due. Due azioni a comando qui. Io confermo da là. È il primo passo per separarci del nuforum. Non ti dispiace? Distruggere la tua scoperta. Vedi come sono messa. Devo proteggere il mondo. Pronto? Pronto. Modalità manuale tra tre... Due... Vino! Io non c'entro. Sabotaggio industriale. Davvero. Nessuno piangerà qualche malato nei quartieri poveri o un ingegnere morto. È un sacrificio in nome degli amari. No! No, no, no! Posso fermarlo? No! Posso fermarlo? No! 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 Pink, no! No! Pink! Non guardare! No, 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 no. C'è un altro intruso. C'è un altro intruso. Trova no. Ma poi finna? C'è un altro intruso. Perché? Hai il telefono. Scoppa! Quel reattore ha ucciso un mio amico Deve essere spento Per sempre Mi devi aiutare, zio Per favore Zio Aaron? Ok Indietro Grazie Come il generatore all'esterno Ma... Più grande Che cosa fai? Mai, fermalo Mai Dai bene Devi andartene da lì Puoi muoverci Sì Scappa lungo il corridoio Capo zinuculare Mi dice Nuculare In quel frame sembrava Cosa è l'immagine di tipo Mente che si espande Esatto Avevo bisogno di quel telefono E ora come faccio? Sveglia ragazzo La Roxxon sarà lì a momenti Oh 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 Quindi con lo scudo Come si supera? Sempre col cerchio O col triangolo 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 Mimico inolciato Ah Non mi ho fatto Ci metto Ma Mi va Non so sparare è un po' superpotence è un illegal move non è valido però devo fare il counter yes per cui per cui ancora grazie amici grazie per l'undicesimo mese ventano tre membri credibile pasto sgravato pure beccatela ok tranquillo possiamo farcela le guardie sono il meno i veri guai inizieranno quando saremo fuori da qui ora Krieger si vuole morti arrenditi è proprio premere L1X diceva per disarmare quindi non so dove è no si L1X non la carica ancora adesso ce l'ho madonna bomba no no questo non mi piace no no questo non mi piace questo non mi piace sono difficili si vai vai dai ma questo mi sembrava molto difficile ehi quanto mi spai eh non glielo puoi disarmare questo te lo tiro in testa vedi no e anche se devi fare gli stessi sotto tu non fai niente che cosa devi fare L1X allora L1X 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 via tutti mi avete rotto tu questa la dai a me ok mi ritenzo un po' questo via ah non ho ancora battito da arrivo a tutti che non va bene wow molto utile però mi ce la mettino sotto quindi vengo la cerchia sì il bbox oggi soltanto mattina e primissimo pomeriggio questa chiama dammela a me nooo cattivo wow allora insomma qua sta cosa via che becca di sta pigna ora tu vieni da me ci facciamo un voletto via giro giro tondo casca il il cosa il bugondo qua allora vieni ti facciamo parti scusa Prowler ti ho rubato la kill ops kill stealer proprio di nuovo ehm whoopsie ma io sto rubando tutte le kill no basta vado dall'altro lato allora il resto è per Chiara is this for me poi dovresti aver finito no c'è un altro lì dietro eh non l'ho ucciso però là sopra sto continuando a pensare quelli di suoi allora no vuoi fare questo se no non lo faccio mai mi diventi presente eh eh ok young signorino arrenditi 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 sorri arrenditi arrenditi un po' di grazia di sconigli lo sto facendo lo sto facendo lo sto facendo eh premi l1 più quadrato più x questa si però ti conveni a farlo in mezzo un po' più a loro ok che non hai un'area gigante bam non posso fare quello subito dopo no 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 questo non mi piace siete grossi ti metti lì in mezzo lo fai vai 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 guarda quanta gente c'è intorno vai 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 allora l1 parato x così però mi sa che ti dice scappa e basta devo scappare si vedi dove c'è il triangolone giallo ah ok con le due più le due ma dov'è? la sopra oh lì ah lì ok ho capito aspetta che ci vado ok ah continuano ad arrivare se no Lodovico grazie per il ride ah c'è Lodo ciao no no coglioni è aggressivo è troppo intelligente oh non credere siamo più stupidi quando teniamo a qualcosa come lo sei tu proprio ora wow il brawler piace un sacco leva 01 credevo mi appoggiasse lo speravo era mio fratello invece mi ha tagliato fuori se me ne fossi stato zitto forse avrei ancora una famiglia sai che cosa devi fare forse dovrei chiamare finna no no meglio fare un giro in città sì questo riesco a farlo senza farmi venire l'ansia senza sai quanti follower hai guadagnato da quando l'app è online roba da non credere ho fatto qualche calcolo e forse dovremmo riconsiderare l'idea degli annunci pubblicitari no certo no ovviamente dicevo per dire hai trovato il telefono di Finn sì ma si è sciolto quando ho prosciugato un reattore uniforme ma cosa? e non sei morto ci sono andato vicino ho liberato tutta l'energia con una specie di esplosione è una fortuna che non si è crollato tutto devo iniziare a prendere appunti per stare dietro ai tuoi poteri ora qual è il piano? zio Aaron mi ha consigliato di parlare con Finn per entrare nell'underground e rubare il nuporm così non potrà usarlo per chissà cosa cioè dovresti mentire a Finn già ma non ho altre piste sai cosa ci serve? niente liste dei pro e dei contro una lista dei pro e dei contro una lista dei pro e dei contro ora devo andare certo una lista dei pro e dei contro beh ci sta che lo zio sia così aggressivo è un ex criminale poi si vede che ci tiene tanto maes probabilmente è l'unico membro della famiglia che non lo schifa verissimo ah già e che hai fatto qua? lo assunta? ha ottime doti di... eh sì ciao amici grazie fare che il signor Jameson abbia saputo chi sono e cito il suo produttore oh oh io faccio l'unico ci sono ancora 3 non ci siamo ok giusto 3 ce ne sono ok si ma chiedimelo per favore nooo non è facile non ho molto alpiti in alto no infatti però anche se fai triangolo comunque hai poi un po' di tempo per nasconderti di nuovo senza che ti sgamino eh di solito si almeno nel vecchio era così se ti dice che è sicuro comunque è sicuro se vai giù lo ammazzi e poi torni subito su e uno ti va di ballare spiderman? e allora balliamo! perchè non stai ballando allora? no 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 scappa perché così io l'ho aperto perché così almeno un invito a cena prima si vedi c'è Gerico è un vero gentleman invece qua brutta fine ciao Mosgano è finito hai istinti suicidi ragno mi fa molto piacere ragazzi ma che palle pensi di farmi paura spiderman non ci contare giro giro tondo e mo dove sono? sarebbe stato bello se continuavo a girare si ma se volevo potevo continuare a farlo secondo me vabbè vabbè ok per fare lo stealth voilà yeeey did it lo sei indeed mi do il 5 da solo tra l'altro anche con la tua stessa voce quindi è proprio sei tu che te lo stai dicendo è bravo Jan è bravo Jan è bravo Jan sì perché me lo chiedi no beh ho visto i filmati sul raduno di tua madre stiamo bene senti avresti tempo per un caffè posso tovarlo c'è un locale sulla Edison vicino alla Fisk Tower quanto difficile dire Fisk Tower guarda guardala come dissimula vabbè ma perché Jericho devi considerare che lei sa che Spider-Man ha scoperto la sua identità ma non sa che Miles è Spider-Man quindi non sa lei non sa che Miles sa mi piace uno sacco tutto il grano ma non hai bisogno che individuali Non avete niente di meglio da fare. Amo i colpi di grazia. Dio? Ma mai si sa anche l'estadino? Non sapevo... Joy? Loro sanno che noi sappiamo che loro sanno? Sì, lo sanno. Tu non lo sai. E se adesso andassi di là e scoprissi di sapere esattamente quello che penso di sapere? Lo sai! Cosa stai facendo, Morgana? Dove hai passato di qua? Dove fai una passeggiatina? Vieni a prendersi i bacini. Tu non lo sai. Eh, vai tu da te. Oh no, che carino. Oh, c'è un crimine in corso. Lo faccio? Sì. Vabbè. Non mi vedete. Non mi vedete. Dove sei c'è? Eh, oltre qui. Ah, eccovi. Ci sono tanti. Ci sono tantini, sì. E sono anche tutti quanti belli amiconi. Sì. Mi sa che gli faccio il culo e basta. Sì, premi L1 al quadrato X così si fai proprio tipo il pugno elettrico. Salta e L1 al quadrato X. No, ma sono tanti sopra. L'attacco catapulta e lancio tre nemici con la morsa di regnatera. Cos'è la morsa di regnatera? Non lo so, controlliamo. Ah, forse nel senso che faccio R1, R1, R1 e poi li lancio in giro? No, tieni premuto triangolo, vedi? Morso di regnatera, triangolo. Ok. Devi farli saltare in aria e triangolarlo. Bene. I can do this. Allora, catapulte. No. No. Come mi pare le bue? Catapulte fatte. Ok, ora facciamo la morsa di regnatera. Ma sta saltando? No, 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 no. No, no. C'è solo questo? Sì. Credo. Però non me la segna. Secondo me la morsa di regnatera è più questa qui. Nel senso che se gli faccio... E poi faccio questo. Eh, vedi, è quello. Però ormai non ce n'erano abbastanza. Ah, per favore. Eh, no. E non fatevi più beccare a scassinare serrature. Sì, questa non era male. Ma è migliorabile, ti dirò. Lì devi prima imbozzolare, infatti immaginavo, vabbè, l'abbiamo capito troppo tardi. Quanto è fusa, signorina. Guardate, è Natale. Che noia che qui è nevicato praticamente soltanto il primo dicembre. E basta. Andiamo a prenderci un cappuccino. C'è un cappuccino. Scusa, signorina. Se ti va a una corsetta, la polizia insegue dei ladri d'auto. Andiamo qui? E qui? Non lo vogliamo farlo. Eh, per me di sopra. Ah. E da te. Scusate ragazzi, ma ho un appuntamento e non posso arrivare tardi, che già mi ha gridato l'ultima volta. Fin. Non piace entrare dalla porta principale. E no, perché ci deve cambiare. Chi non può entrare vestito da Mainz? E sarebbe un bellissimo modo per farsi rilassare. Grazie per l'invito. Mi serviva una pausa. Da cosa? Oh, da... Tutto. Sai, sono stato alla bottega dei tuoi. Ti stavo cercando. Era tutto sottosopra. Era ridotto come un campo di battaglia. Sono entrato e ho dato un'occhiata. Ho scoperto di Rick. Mi dispiace. Cos'altro hai scoperto? Voglio aiutarti. Ma devi dirmi tutto. Mi spiace che tua madre sia rimasta ferita. Se soltanto il nuovo Spider-Man non si fosse intromesso... Esso. Non cercare di farmi desistere. So quello che faccio. Ok. Bene. Allora. Questo è il mio segreto. Per questo era impegnata. La tua scusa, invece? Bugialdo! Tutte cose che facevi anche prima. Qual è il vero motivo? Il vero motivo è... Che è che è sotto? Mi sono preso molte più responsabilità di quante ne possa gestire. E ho allontanato gli amici. Ma sono qui per rimediare. Magari potrei unirmi al club. Gruppo. Squadra. Sei un buon amico, Miles. Sei un buon amico, Miles. Dove mi hai chiesto tu? Sai che non amo le altezze. Andrà bene. Ci sono qua io. Grazie, Midway. Grazie per il sapere il ventisettesimo. Ok. Non resto per un spazio. Devi mostrare il segno dell'underground. Ti farò vedere come. Arrivati alla Fisk Tower. Vi siete stabiliti nella base di Kintin. Quando è finita in prigione, i federali hanno sequestrato le sue proprietà. Ma senza venderle. Quindi le abbiamo occupate. La Fisk Tower occupata. Tutto questo. L'underground. Tinkerer. Tinkerer è il mio nome d'arte. Costruisco di tutto. Maschere. Armi. Materia programmabile. Esatto. L'underground è entrata nel negozio di mio nonno e ha visto cosa stavo facendo. Ci siamo accordati. So che puntate a Krieger. Ma qual è l'obiettivo? Oltre alle armi, ovviamente. La notorietà. L'underground vuole farsi conoscere per conquistare potere. E a te sta bene? Non posso battere la robson da sola. Vieni. Devi saltare dalla gru alla balconata per dimostrare il tuo coraggio. Che mi guardano? Dalle finestre. Non puoi tirarti indietro. Tranquillo, è tutto a posto. Sì, è una cosa in neve. Mica si scivola. Non so quello senza rivelare i miei. Ero su ingannare. Questo proprio c'è. Oh no. Quello è Dr. Martins. Che paura. Vale. Oh. Quindi sono ufficialmente nel club? Certo. Ma fa attenzione. I ragazzi sono un po' diffidenti all'inizio. Ecco qui. Il piano prende forma. Il vostro piano. Cosa c'è in fronte? Krieger dice che hai rubato un carico. Ho rubato una capsula. Voglio modificarlo ma... Non ci pensare. Però oggi cerca solo di ambientarti. Certo. Ma che stile. Raga cioè. Ti cercava Gary. Non ora. C'è una nuova re. Ok. No cavolo. Stiamo a letta. Hai fatto tutto da sola. Sola. Sì. Finché continuo a creare nuove armi l'underground mi resta fedele. È una spada di materia programmabile. No. Nuovi nemici. Noi nemici. Ti riferisci a Spider? La sorpresa peggiore della settimana. No. 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 Ma anche di sotto. Spada. Una spada. Quante volte glielo devo ripetere. Miles ho bisogno di un minuto. La cavità sola è vero? Sì. Certo. È la mia occasione. Dai ma quanto è bello. Ma che estetica. Sì. La coscia. No. Morgana smetti agli sederti sulla tastiera. Ne avete dei soldi? E non hai visto di sotto? Il vecchio ci sta finanziando. Chi vi ha soldi? Fisk. Potrebbe essere una fisk? Finanziata fisk? Eh beh. No. In realtà è che... Ah sono i soldi di fisk. Loro essendosi messi nella base di fisk. Li hanno accattato. È una bella campagna social. Spendere un po' in Google AdSense. Ero Morgana. Cosa guardi? Non prendere i tastini Morgana. mai? Non. Oh. Uff. Fisk non apprezzerà Sare. Io ho promesso. Uff. Uff. Oh. Perfetto per nascondere l'energia e le donne Non sbaglio Martin Lee Ho fatto una voiceline di quando viene colpito Sono tipo villager di minecraft Fuck if I know Ehi Ehi tu Oh A chi scrivi? Mia madre Vuole che rientri Sul serio Ora Sai Il polso ingessato Ha bisogno di aiuto Le hai detto che io Grazie Puoi uscire da là Tornerai presto Contaci Belle scarpe Ehi Scarpe Però il film potevi anche accompagnarlo fuori No Non vedi no E' troppo strong independent women Vediamo se nascondono i loro segreti di sito Vediamo se nascondono i loro segreti di sito